Allora ragazzi sono arrivato da scuola, sono appena uscito e esco un'ora prima che vado a prendere Pokémon Zaffiro Andiamo in macchina, comunque vi faccio vedere la macchina, così almeno, cioè non l'ho fatta a me vedere Qua c'è la macchina, tipo entriamo Qua c'è tutto, con la radio Ora andiamo a prendere Pokémon Zaffiro Ora tipo noi accendiamo la macchina Non ci faccio tipo vlog in macchina perché Ma vi faccio sentire appena l'accendo Ah comunque non sto salutato, ciao Joe ragazzi sono Joe Andiamo a prendere Pokémon X Abbassiamo la radio, qua c'è la radio Qua tipo vi faccio vedere i neon Allora qua c'è uno, ovviamente non si vede adesso che Non è buio Ce l'ho anche sotto che con questo tasto vi faccio accendere sotto Ora accendo la macchina, qua i beep che sono tipo i porno Scusate Accendo la macchina e Questo va il rumore della mia macchina E per questo non farò vlog in macchina Perché se tipo appoggio il telefono Cioè guardate quanto sta vibrando E quindi nulla Noi adesso andiamo a prendere Pokémon Y Eccolo qua Ora lo andremo a drapire insieme È una specie di unboxing in sto video Però è più divertente perché Cos'è un gioco dell'anno Chissà quante foto faranno quel cazzo di Io che mangio la cosa Apriamo Prima voi lo vedete Subito cadono i fogli Oddio Frigga e suiz gratis Vabbè qua tutte le istruzioni Bla 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 E noi non ci fremo cazzo E noi frega di Questo Questo Subito Subito Ma poi si Accendiamo Subito Subito Accendiamo Madonna Madonna Anche in 3D È tutto più bello In 3D Guardate che bello E E E E E E E Shhh Dio eccomi qui tesoro E Sono pazza di te E Dammi lavaggi Ok ragazzi Questo qua è l'ultimo Pezzettino di Pokémon Che vedrete È la scelta più difficile Della mia vita Chi cazzo scegliamo Torchip Che è quello in mezzo L'uccellino Che poi diventa Blazzy Che è anche un obei Mudkey Torchik Mudkip di tipo acqua O Trico Di tipo erba Raga io da piccolo sempre scelto Torchic Però la mega evoluzione di Torchic la so già Quindi sceglierò Mudkip Quindi scegliamo Mudkip Scegli questo pokemon si Ok ragazzi questo qua è il mio pokemon Adesso lo devo combattere E nulla questo qua è l'ultimo video che vedrete di pokemon Vi lascio i saluti fino a ciao Ragazzi allora questa parte ve la lascio alla fine Scusate se l'audio è un po' di merda ma c'è sotto la macchina Comunque allora Se vi piacciono questi video del genere Così macchina proprio al pollo Ditemi che ve ne porterò altri sul mio canale Lasciate un bel mi piace per questo zaffiro Da Gioe è tutto Bella